Ciao a tutti i Leopardi, siamo qui con Edoardo Gatti, intanto bentornato. Chiediamogli un'impressione su questa prestagione, come è andata, le tue impressioni dopo il ritorno. Sicuramente la squadra è nuova, stiamo lavorando molto, secondo me i margini di miglioramento sono tanti, una squadra giovane, dobbiamo comunque dare il tempo ai ragazzi giovani un po' di ambientarsi a nuove responsabilità, a nuovo campionato e anche a chi, per esempio me, cambia categoria quest'anno può ambientarsi al nuovo ritmo, alla nuova fisicità che questo campionato ci costringe a tenere. Secondo me è un prestagione buono, a discapito indipendentemente da quelli che sono stati i risultati, ci vedono già molti progressi e quindi questo non può che darci il giusto sprint per continuare e trovarci pronti poi per l'inizio del campionato. Buona fortuna per la stagione Edo e come sempre Leopardi Pride!